Mi ha adorata, sebbene i tuoi occhi ora siano lontani, sento il tuo cuore vicino come sempre. La nostalgia di te è per fortuna parzialmente compensata dalle incredibili bellezze di questa terra sconosciuta. Tutto qui mi colpisce in maniera nuova e inaspettata. Scrivere messaggi mentre si guida può causare incidenti. Noi di Reale Mutua ti assicuriamo al meglio, ma a proteggerti pensaci anche tu. Chiedici qualche consiglio o vai su realmenteprotetti.it